Domenica 26 settembre il Borgo Rivera e la Fontana delle 99 Cannelle saranno protagonisti di Borgo in Festa, organizzato con la collaborazione di Munda Comune e Università nell'ambito di Street Science. La storia della città sarà raccontata attraverso uno dei suoi simboli con un videomapping che sarà proiettato sulle 99 Cannelle per valorizzare uno dei luoghi simbolo a cura dell'Ateneo. Il museo aprirà la scoperta dei suoi tesori ma ci saranno iniziative collaterali come degustazione di prodotti tipici e un concerto ad anticipare il tramonto quando si farà lo spettacolo di videomapping. A presentare la giornata Maria Grazia Filetici, direttrice del Museo Nazionale d'Abruzzo, il rettore dell'Ateneo Edoardo Alesse, l'assessore al turismo del Comune dell'Aquila Fabrizia Aquilio. Gli eventi inizieranno alle 18, il Munda sarà aperto sino alle 23 con ingresso gratuito. È un progetto che va avanti da quattro anni all'interno del Dipartimento di Scienze Umane e questo nello specifico da circa un anno. Il nostro intento ovviamente oltre a quello scientifico e di ricerca è anche quello di valorizzare la città e alcuni dei luoghi simbolo di questa città. La Fontana delle 99 Cannelle, il Munda, uno scrigno di tesori che purtroppo la nostra città, i nostri concittadini conoscono ancora poco. E io mi auguro che questo anno del settantesimo compleanno del Museo Nazionale d'Abruzzo che Dario Franceschini ha inteso e confermato nell'autonomia nazionale di gestione e programmazione scientifica sia proprio il luogo dell'incontro. Il fatto di poter valorizzare questo borgo che è uno appunto dei più antichi della città con questa sinergia tra l'innovazione dell'università della scienza e nello stesso tempo con questo ripercorrere la memoria che da queste pietre sgorga veramente nel modo letterale in modo così prepotente penso che sia veramente un legame e un'occasione troppo importante. Il videomapping La Voce della Città dalla Fondazione al 500 è assolutamente inedito. Si tratta di un'innovativa proiezione sulle facciate della Fontana delle 99 Cannelle che attraverso la voce della città racconterà le sue vicende storiche attraverso immagini, musica e voce. La proiezione è stata ideata e organizzata nell'ambito delle attività del progetto di eccellenza del Dipartimento di Scienze Umane, ricerca, memoria e storia che si incontrano.